Allora abbiamo il primo ospite di oggi, signori, un genio della canzone Nonsens, possiamo chiamarlo così? Sì, sì, è bello, è un genio della canzone. È un nostro amico, ci viene a trovare, ci è venuto a trovare anche nella versione, diciamo così, Rai 2, ci è venuto a trovare nella versione Rai 2, amici di Viva Rai 2. Mi aspettando. È con noi Ivan Talarico, buongiorno. Allora Ivan Talarico è veramente un genio, io ti reputo un genio, scusa, lo so che uno si imbarazza sempre, però ti posso dire che sei altissimo, sei quasi quanto il glasso. Quello l'accetto, quello l'accetto di più. Quello l'accetto. Più quello che la generale. Allora, Ivan Talarico in un pezzo che si intitola? Torta di male. Torta di male. Di male. Come la torta di male. Già il titolo. Già il titolo. Torta di male, Ivan Talarico. Male sto, male sto, veramente molto male. Ho un male immaginario che diventa dolore reale. Male mi sento poi malamente, mi lamento malamente a semi assale quando non mi sento male. Se vivere vuol dire stare male, allora mi conviene forse dormire, che il solo modo di stare bene se dormo non posso più ritornare sui miei passi. Devo stare sveglio ed aspettare che mi passi. Il concetto che vorrei fosse chiaro è che sto male. Per questo lo ripeto spesso. L'unica cosa che mi fa stare veramente molto, 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 molto bene è dire che sto male. Se sto male ho un dolore smisurato, può capirlo solamente. Chi non l'ha mai neanche immaginato l'unica speranza che mi resta il vero amore. C'è il combatticuore, ma poi temo il defibrillatore. Voglio avere accanto una ragazza sincera che sia tenere amante, ma pure brava infermiera. Però non riesco a trovarla perché sto troppo, troppo male. E l'idea di matrimonio si avvicina troppo al funerale. Anch'io sono innamorato di te, però sto veramente molto, molto male. Ma cos'hai di preciso? Niente di grave, ma è molto grave. Vuoi diventare mia vedova? Sto male Sto male Sto male Grazie